Poche ore di detenzione poi la scelta di farla finita, probabilmente maturata già prima dell'ingresso nella casa circondariale di Vasto. Il primario del Dipartimento di Salute Mentale dell'ospedale di Pescara Sabatino Trotta si è tolto la vita in una cella di isolamento del carcere di Torresinello dove era stato ristretto in custodia cautelare per gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Pescara che lo vedeva al centro di un giro corruttivo milionario negli appalti della ASL. Trotta non avrebbe retto la pressione di uno scandalo così grande e delle intercettazioni telefoniche relative anche alla sua vita privata. Attorno a mezzanotte ha compiuto il gesto estremo impiccandosi non prima di aver scritto una lettera di addio indirizzata ai familiari. Alla primario sono stati prestati immediatamente i soccorsi da parte della polizia penitenziaria e dei sanitari che però non hanno potuto far altro che constatarne la morte e subito dopo trasportare il corpo all'obitorio dell'ospedale Santissima annunziata di Chieti dove si terrà l'autopsia. Trotta 55 anni originario di Castiglione a Casauria in provincia di Pescara viveva da tempo a Spoltore. Dal 2008 era capo del Dipartimento di Salute Mentale del Santo Spirito ma era anche impegnato in politica candidato alle ultime regionali nelle liste di Fratelli d'Italia. Una carriera che entra nelle carte dell'inchiesta della Procura di Pescara perché secondo i magistrati gli erano facilitati i contatti con i funzionari della regione Abruzzo proprio per il suo ruolo di spicco nel partito, un percorso politico che sarebbe stato agevolato a livello di preferenze proprio dai rapporti amicali e dalle relazioni derivanti, secondo i PM, con la cooperativa sociale La Rondine coinvolta nell'indagine. Il suicidio del dottor Sabatino Trotta, il secondo in pochi mesi nel carcere di Vasto, apre anche uno squarcio sulla custodia cautelare e sulla vigilanza all'interno del penitenziario istoniense. Trotta era detenuto in una sezione nella quale c'erano nove internati ed era solo all'interno della cella. Su quanto accaduto ieri sera a Torresinello è pronta anche un'interrogazione diretta al ministro della giustizia Marta Cartabia a firma di Gianfranco Rotondi, presidente della fondazione DC e vicepresidente del gruppo di Forza Italia La Camera, il quale auspica si faccia chiarezza perché, dice Rotondi, è necessario ricostruire la vicenda in modo completo poiché essa richiama la responsabilità di un sistema che permette la diffusione di intercettazioni private contemporaneamente alla contestazione di un possibile reato con conseguenze psicologiche i cui esiti sono drammaticamente evidenti.